Partiamo dal presupposto che per me fare volontariato mi ha cambiato molto, anche nel vedere le cose da un altro punto di vista. Già dal primo giorno è stato molto gratificante perché donavo questo sorriso a delle persone che poi automaticamente me lo ridavano. Per me fare volontariato significa avere l'umiltà di capire che fondamentalmente il nostro tempo non appartiene solo a noi e mettere a servizio degli altri il mio tempo che per quanto è mio può arricchirsi di valore aggiunto se messo a servizio degli altri. Quest'estate con il progetto Mare Senza Barriere avevamo tra le utenze una ragazza in carrozzina, però sai anche lei con una bella ironia, quindi con una bella impostazione anche caratteriale. Io avevo seguito il trasporto, quindi io ho chiamato lui per scendere la ragazza dal pulmino e io dovevo aprire questa carrozzina. Io non mi vergogno del fatto che tutto quello che è il mondo della disabilità è da due anni per me un terreno fertile, ma non lo era di certo prima, quindi apro questa carrozzina ok, però poi dovevamo mettere il cuscinetto, quello sai dove poi la ragazza doveva sedersi. Lui teneva Jenny perché l'ha sollevata proprio di peso, io poggio sto cuscinetto e la ragazza mi fa Claudia non lo stai mettendo in maniera sbagliata, dico Jenny ma perché come si mette, quella valvola deve andare davanti. Lui è sudatissimo che la tratteneva e dice Claudia, sriga perché qua abbiamo combinato un favocchio. La cosa poi fondamentalmente che ci ha emozionati e ci ha veramente resi forse i veri disabili, in quel momento eravamo noi due, perché è stata Jenny che ci ha fatto entrare in punta di piedi nel suo mondo e ci ha fatto conoscere un po' quelle che per lei sono cose scontate e non lo erano per noi. Io ad esempio prima di essere in Wildiem avevo la presunzione che nel momento in cui mi affiancavo a una persona con disabilità ero io quella che poteva aiutare e che poteva dare qualcosa. Da quando vivo in Wildiem invece è cambiata completamente questa prospettiva. Io invece vedo adesso in una persona con disabilità una persona che non per forza deve essere aiutata da me ma che può aiutare me perché un giorno la giornata storta arrivo in sezione, vedo una ragazza che avrebbe mille motivi per avercela con la vita, ti accoglie con un sorriso che ti disarma un attimo e tu dici aspetta prima di uscire da casa ma di che cosa realmente mi sono lamentata. Quindi quello che vedo cambiare intorno a me è proprio l'approccio del cominciare a vedere la vita completamente con un'ottica diversa. Non si rimane indifferenti nel momento in cui con cuore decidi di donarti agli altri. È un'esperienza unica, veramente, ti lascia molto dentro. Se vuole cambiare qualcosa della sua vita in meglio, quindi in positivo, fare il servizio c'è via. Grazie a tutti.